Auguriamo a Lecco di scoprire sempre di più la sua venda turistica, dato che tutto il resto già c'è. Auguriamo al Teatro della Società di poter rialzare presto il sipario. Auguriamo alle nostre amiche e sore birmane di Santa Marta di vincere la sua vita. Auguriamo a Lecchesi di avere abbastanza spazio nei bidoni gialli per buttare tutta la carta dei regali. Assessore Venturini, come vogliamo rassicurare i cittadini lecchesi che temono che a Natale non ci sarà spazio sufficiente nei bidoni gialli per tutta la carta dei regali? Ma perché? Ma io recito la carta e recito i miei regali per come non ci sono problemi. Auguriamo a questo video di diventare virale, almeno quanto il video parodia sulla riqualificazione del Bione. Auguriamo l'arrivo del quarto ponte, dopo Ponte Manzoni, il Ponte Dante. Auguriamo a Don Franco Cechin di mantenere sempre il suo contagioso entusiasmo. Auguriamo il progetto della Casa della Carità di poter dare presto uno spazio adeguato e accogliente a chi ne ha bisogno. A tutti i nostri affezionati lettori, a chi ci sostiene, a chi ci critica, a chi non si perde nemmeno un articolo di resegone online, a chi non ne ha mai letto uno, ai nostri collaboratori, ai nostri amici, a tutti voi, ma proprio a tutti, vanno i nostri più sentiti auguri di Buon Natale. Grazie a tutti i nostri amici.